Bene, allora adesso io mi sedo qui e prima della tavola rotonda chiamo qui con me sul palco l'onorevole Katia Polidori e facciamo una chiacchierata tra amici e tra rappresentanti di un'associazione e naturalmente di una parte politica ma al di là della parte politica come vi dicevo ieri la buona politica c'è dappertutto ma la buona politica viaggia sulle gambe delle persone e vi ho raccontato, vi ho illustrato un po' quello che è successo sul DDL concorrenza e sull'ingresso delle banche nel settore delle agenzie immobiliari. Molti parlano di questa cosa come una battaglia contro i mulini a vento, io ho avuto un po' di ma perché FIAIP vuole solo apparire, perché fare questa battaglia, perché doverla fare e così allora siccome abbiamo lavorato insieme su questa cosa siamo qui, è una battaglia contro i mulini a vento che possiamo vincere e comunque anche se non dovessimo vincere era giusto combatterla questa battaglia perché poi passeremo al Senato, no? E cosa mi dici? Allora, intanto al Presidente grazie dell'invito, oggi è una giornata un po' particolare perché a Roma abbiamo la fiducia e peraltro per chi è di Città di Castello e prima l'ho vista e oggi è anche il Santo Patrono, quindi dovrò triangolarmi in tre posti. Mi vedrete scappare solo per questo motivo ed è il motivo per cui non sono riuscita ad arrivare ieri sera. Mi fa veramente piacere conoscervi finalmente, no? Cioè vederli anche fisicamente, conoscere le persone che fanno parte di questa entità, anche se sinceramente avendo fatto una battaglia fisica, fisica, poi magari lo spiegheremo, veramente fisica perché poi alle quattro di notte in Commissione si diventa anche nervosi alcune volte, avendo fatto una battaglia fisica mi pare quasi un po' di conoscervi insomma, un po' a tutti perché poi devo dire che questa cosa mi ha dato anche l'opportunità di venire a contatto con un mondo che non è quello del lavoro autonomo che io conosco bene per la mia storia di imprenditrice, ma è invece quella proprio delle agenzie immobiliari. Allora, tutto nasce da un decreto concorrenza, chiamato proprio DDL concorrenza, dal nome con grandi promesse. Scusa Katia, poi Matteo ci sta ascoltando e ci aiuterà in Senato, ne parlerà e ci darà una mano, stai lì Matteo. Io gli ho già chiesto aiuto, allora quindi adesso racconto, anche perché è stata una cosa veramente che insomma... Allora, il decreto ha impegnato nello studio, nei lavori, in Commissione mesi e mesi. Questo perché? Perché ovviamente a differenza, e questo vabbè lo voglio dire, di altre forze politiche che dicono solo no e però non hanno poi delle proposte, il mio gruppo invece, perlomeno per quanto riguarda la Camera e non dubito che lo farà il Senato, ha votato prima in Commissione durante l'esame sì a tantissime proposte fatte dal Governo, perché erano proposte che andavano assolutamente nella direzione del titolo stesso di questo decreto, cioè della concorrenza, dove per concorrenza, poi qua se vuoi ci possiamo tornare, è chiaro che è concorrenza sana, concorrenza pulita, ma soprattutto concorrenza leale. E qui già con questa parola forse ho risposto alla tua domanda iniziale. Dunque, ovviamente nel Calderone, come succede spesso, sono state toccate e qui è il motivo per cui io, vi giuro la prima volta che l'ho letto, io sono stata al Governo, per cui lo dico chiaramente, non è una presa... Io oggi voglio essere assettica, cioè non è una presa... Qui parla l'imprenditrice, mettiamola così. Sono stata al Governo e ho visto sempre, quando ero Ministro, decreti di una complicazione pazzesca. Perché? Come si fa? Si cerca di ascoltare tutti, che poi è quello che ho dovuto rifare io nel piccolo, ascoltare tutte le categorie, ascoltare tutti gli interessi, e si cerca, e questa sarebbe la vera buona politica, di mediare tra i vari interessi. Quindi tra gli interessi dei cittadini, quindi gli interessi dei singoli, gli interessi dei lavoratori dipendenti, ma anche tra gli interessi dei piccoli imprenditori, o come possiamo chiamarli, lavoratori autonomi. Allora, già dalla prima lettura è apparso una sorta di, chiamiamolo pasticcio, dove era il problema. Che se da una parte si è riusciti, e ci si è riusciti veramente, con un bel lavoro di collaborazione, a sistemare una serie di piccole cose che erano rimaste appese, quindi per i notai, piuttosto che per gli avvocati, piuttosto che... Lì, insomma, siamo riusciti a trovare alla fine, lavorando, discutendo, un accordo, un accordo positivo, un accordo non per noi politici, un accordo in questo caso ad esempio per i notai o per gli avvocati. D'altra parte si vedeva la difficoltà dell'ascolto di questo decreto, quindi del governo, perché si tendeva a contrapporre gli interessi, quindi interessi di un'associazione, con gli interessi di un'altra associazione. Cioè, si è tentato di preservare, questa è la critica più grossa che io mi sento di fare da cittadina, lo status quo pur di non avere problemi. Capite che i problemi sono maggiori quando due colossi, non facciamo il nome, Banca San Paolo e Unicredit, Banca Intesa Unicredit, si sono, come dire, difesi in questa battaglia contro una miriade, che siete voi, di piccoli imprenditori in questo caso. Guardate, il percorso, io credo che solo il Presidente che qua sa qual è stato, perché dalle chiamate notturne a qualsiasi ora, lui aveva il telefono sempre acceso e io chiedevo chiarimenti, perché delle volte non si riesce ad entrare, non siamo omniscienti, quindi non si riesce ad entrare bene nell'argomento. Io da queste telefonate pomeridiane, notturne, insomma, perché quando ci sono i provvedimenti dicono che i politici non lavorano, però a luna di notte, alle undici, tu devi seguire, no? Il Presidente deve seguire una cosa e la politica ne deve seguire un'altra. E c'è stata una trattativa che, vi devo dire, ha condotto con il Ministero e con lo stesso Ministro, che è stata importante e, devo dire, non una difesa e un lavoro con il Ministro per fargli capire delle cose, perché da quello che sappiamo il Ministro aveva ben capito le nostre ragioni. Assolutamente sì. Il problema è quello che si diceva prima, fino a che punto le lobby o certe attività che sono, insomma, anche il fondamento, lo dicevamo ieri, della nostra società, possono intervenire sulla politica e possono pesare sulla politica. Questo è il grande tema. E allora, ecco che poi, in un bilanciamento, perché l'Onorevole mi ha anche chiesto qual era il piano B per fare una trattativa, e io gli ho illustrato qual era il piano B, perché l'emendamento era vietare alle banche di fare gli agenti immobiliari. Il piano B, fronte di una trattativa, quale poteva essere? Bene, cara banca, tu non ti puoi mettere nel nome della tua agenzia immobiliare, non puoi mettere il nome della banca, perché è chiaro che se si chiama Unicredit subito casa, la gente collega con la banca, e allora ti chiamerai subito casa, e allora ci siamo con la concorrenza. Non puoi fare le agenzie immobiliari dentro le filiali, perché se no i consumatori sono portati, o tu potresti obbligare i consumatori a fare questa attività, cioè obbligarli a dare il mandato all'agenzia immobiliare. E terza cosa, il piano B, era che i sistemi informatici della banca, cioè la consapevolezza che la banca ha delle criticità finanziarie dei clienti o meno, fossero completamente staccati. E allora eravamo in presenza, saremmo stati in presenza di concorrenza. Di un piano B discusso la mattina alle 7 in un famoso bar, hanno aperto con noi alle 7, a Roma saprono tardi bar, hanno aperto alle 7 con noi quella mattina per un piano B da poter presentare. Ma torniamo al piano A. Ci sono degli argomenti, lo dico a Matteo perché io li ho imparati da lui, ovviamente, non è che studiando, ci sono, poi avevo in borsa i fogli, ma tanto i numeri, cioè i riferimenti degli articoli contano poco, però è il concetto quello che conta. Allora ci sono, peraltro, delle cose che ti fanno veramente arrabbiare per essere educata. Io non faccio una battaglia se non ci credo, per cui la faccio se ci credo. Quindi studio, leggo e poi mi metto nella posizione del politico e quindi non dell'interesse. Io capisco, soprattutto quando si parla di conflitti di interesse, quando uno lavora per grandi aziende, non è facile, no? Con le banche. Io mi rendo conto di aver messo in difficoltà così, tra virgolette, mezzo governo. Però l'ho messo ancora più in difficoltà quando sia in aula, per chi ha voglia, insomma, poi c'è tutto lo stenografico e la diretta degli interventi, sia nelle commissioni, sia poi parlando direttamente col governo, ho portato dei dati che la vostra associazione, il Presidente, mi ha portato, delle informazioni che per me erano sconcertanti. Una di queste, questo la sapevo io, sono una laureata in economia bancaria, però una di queste che lui mi ha ricordato è il fatto che comunque alle banche non viene concessa da un articolo preciso, mi pare del 2003, non viene concessa la possibilità, quindi gli è stata tolta la possibilità di avere una partecipazione in qualsiasi società che fa mediazione creditizia. Al massimo può averne il 10%. Perché questo? Per fare in modo che le due attività, insomma, la mediazione creditizia con le informazioni che vengono date dalla banca è ovvio che non può andare d'accordo, quindi si tratterebbe di concorrenza sleale. Seconda cosa, a tutti voi è vietato, nella maniera più assoluta, di segnalare finanziamenti di qualsiasi banca o comunque di lavorare in accordo con una banca per facilitare dei finanziamenti, ma è altresì vietato di detenere quote di altre società che potrebbero entrare in conflitto. Se a voi è vietato al 100%, com'è possibile che alle banche venga consentito non solo di detenere al 100% le quote di un'agenzia immobiliare, ma badate bene, come è successo nel caso di queste due banche, che è quello più toccatante, di farsela all'interno l'agenzia immobiliare. Questa è la verità. Il punto da cui siamo partiti nella difesa, insomma, di questi che sono interessi è proprio cercare di far capire, e guardate, come diceva il Presidente, è stato capito, non è che non è stato capito. Ecco perché io spero che abbiamo perso una battaglia, ma qualcuno provvederà al Senato, ricominceremo, ora passa la stabilità e qui chiedo aiuto al nostro amico in sala. Quindi non è una questione di comprensione, è una questione di incastrare. Io sono andata, e peraltro so di poterlo dire, ma quando si fanno le trattative, la trattativa spesso è data dal fatto che un'opposizione che fa l'opposizione fa un ostruzionismo costruttivo. Quindi nel momento in cui, tra virgolette, hai riportato a casa una mediazione giusta, smetti di fare l'ostruzionismo. Noi dovevamo chiuderlo, questo decreto. Per cui io nel momento in cui avevo cinque voci per cinque categorie, una era la vostra, fossi riuscita a riportare a casa perlomeno un piano B, o comunque una promessa, io avrei dovuto, questa è la parola di un politico, togliere, io sono capogruppo, ecco perché dico questo, togliere tutti i miei dalle discussioni notturne, in modo da poter proseguire e doverlo chiudere, perché poi insomma ci sono delle scadenze con questi provvedimenti. La verità è che di fronte a tanta comprensione su questi temi che vi ho appena detto, ci siamo scontrati, tant'è che ho fatto una ricerca io personale, il Presidente lo sa, incontrando i responsabili, l'ufficio relazioni delle banche, perché comunque ho detto, cerchiamo di capire fino a dove dal punto di vista legislativo si può fare qualcosa. Dunque, in realtà è difficile fare un qualcosa di retrattivo, poi in Italia ci siamo inventati tutto, basta che vi dico la legge Severino, insomma viene in mente di tutto e di più, però non volendo fare la retrattività e volendo tra virgolette accettare che queste banche abbiano già al loro interno questo tipo di situazione, avremmo potuto quantomeno, potremmo, non la do per persa, quantomeno limitare a queste banche che hanno, gli dobbiamo trovare una motivazione, ora so che sto facendo un passaggio difficile ma ci ho pensato giorno e notte insieme alla vostra associazione, limitare a queste banche il fatto che siano completamente proprietari di queste agenzie immobiliari ma soprattutto limitarle solo a loro, cioè una sorta di, brutto da dirsi, ma di diritto acquisito, della serie, lo state facendo solo voi però lo dovete fare con delle regole. L'escamotage Matteo ci sarebbe stato perché queste banche in realtà, e qui te lo dice la laureata in economia bancaria a Siena qua vicino, queste banche in realtà hanno aperto un'agenzia immobiliare per un interesse specifico. L'interesse è quello che in una situazione di crisi economica sappiamo benissimo quante case sono state prese, quanti immobili sono state prese dalle banche, quindi è chiaro che si trovavano a dover gestire un patrimonio importante perché stiamo parlando di due grosse banche e la soluzione è più semplice, l'avrebbe fatto qualsiasi imprenditore e ha detto beh mi apro la mia, no? Allora, innanzitutto invece di aprirti la tua potremmo trovare un accordo in modo che su vari territori, perché si parla di banche a livello territoriale, ci si appoggi alle agenzie che sono esistenti, più piccole, più grandi, attraverso anche dei bandi di concorso sulla percentuale, no? Cioè potrebbe essere un'idea, voglio dire, ce ne sono tante. E lasciare però solo, dato che si tratta veramente di una distorsione di sistema, cioè il sistema deve essere, poi lo dice, chi viene da... e ha scelto quel percorso politico perché sono liberale ma anche liberista e che dir si voglia liberista vuol dire libera concorrenza, ma non il far west, questo è il punto. Allora, la libera concorrenza deve essere una libera concorrenza comunque a favore innanzitutto dei più deboli e soprattutto perché ci serve. In un momento così critico di economia a noi serve la libera concorrenza per dare un po' di respiro, per fare in modo che i cittadini, ma anche le piccole imprese, non siano gravati da accordi di cartello. Questa è la cosa che dobbiamo evitare. Quindi, allora, siamo partiti dal principio generale che era assolutamente condivisibile per arrivare all'interno di un'analisi di questo sistema che è diventato complicato. Allora, alla fine questa trattativa, diciamo un po' così, come siamo rimasti? Siamo rimasti che, siccome tanto in mezzo c'è la stabilità, cioè quindi la finanziaria, per capirci meglio, che al Senato la stanno discutendo ora, poi arriva da noi e poi ritorna in terza lettura al Senato, è sempre un momento complicato, non appena il decreto concorrenza ritorna al Senato, io e il Presidente siamo già pronti, abbiamo già individuato le persone a cui raccontare, perché poi non è che si può pensare che i politici siano preparati su tutto, ovviamente. Quindi raccontare questo problema, già abbiamo iniziato, per vedere se questa volta, magari avendo un pochino più tempo, perché effettivamente era tutto di corsa, di rincorsa, avendo solo da sistemare alcune cose, si riuscisse a far passare quantomeno il concetto. Io mirerei più a far passare una regoletta, un emendamento, ma insomma adesso vediamo di lavorarci. Vi voglio solo dire, e poi mi taccio, che in realtà lo spazio di manovra c'è perché le grandi questioni le abbiamo sistemate alla Camera, quindi diciamo è rimasto qualcosa sulla confedilizia, che so che insomma stanno anche loro insieme a voi, anche lì c'è un problema sugli affitti, anche questo il concetto. Questo non so, posso anche immaginarlo a chi desse fastidio, però può riguardare anche voi perché occupate comunque anche degli affitti. Allora, e qui ritorno a far l'imprenditrice, io è l'esempio che ho fatto alla mia amica ministro, tendo a dirlo ad un'amica, e anche alla mia amica sottosegretario che era prima in un partito con me, quindi ci conosciamo bene. Allora l'esempio è stato questo, badate bene, io ho dei capannoni, ho dei capannoni che do in affitto, ma non sempre i miei capannoni sono situati nella zona dove a me servono, perché magari avendo un'attività che sta in tutta Italia, io magari ho dei capannoni vicino a casa mia, mi servono in altre zone, quindi ricorro a capannoni in affitto. Quindi sono nella situazione di darli in affitto i miei e di prendere altri in affitto. Quindi conosco perfettamente il sistema, cioè partiamo da questo punto. Allora anche qua la situazione, apro una parentesi perché so solo che vi riguarda, qua la situazione è stata quasi, siamo arrivati quasi al demenziale, nel momento in cui non si va in un momento così difficile, e lo dice anche chi dà in affitto i capannoni e questo che ho cercato di mettere subito in avanti. In un momento così difficile non si dà la possibilità della libera trattativa tra chi dà in affitto il capannone e chi prende in affitto il capannone. Io, Katia Polidori, il mio capannone in via Canta a Città di Castello non lo affitto, perché se lo devo affittare ad un prezzo di ora che si sa che le aziende sono in difficoltà, chi prende un capannone adesso lo prende ad un prezzo basso, perché altrimenti non te lo prendono, non partono, hanno bisogno d'aiuto e quell'affitto mi deve rimanere tale per 12 anni, ma chi me lo fa fare? Poi un capannone te lo ridanno, ovviamente, se ci metto una pizzeria me lo daranno con il buco del forno a legna, insomma comunque ci sono delle spese che nessun affittuario vuole considerare. Mi sono invece trovata in situazioni dove veramente proprietari di capannone che io ho affittato, quindi di immobili, io parlo di capannoni ma si parla anche di trattorie e di quant'altro, mi hanno dato la garanzia, volevano darmi la garanzia che non me lo toglievano di certo per i 12 anni o i 6 anni che servivano a me, perché poi a rischio è quello, tu lo addobbi e poi ti rimane lì, ma mi volevano venire incontro perché io gli ho detto sto mettendo su un'attività e per i primi 3 anni non sarà semplice riuscire a coprire queste spese, dopodiché facciamo un piano, mi dici da dove parti e mi dici dove vuoi arrivare con questo affitto, ma se ci si trova d'accordo noi, perché ci deve venire giù una legge dall'alto e questo si chiama libera concorrenza? No, quindi questo decreto non possiamo chiamarlo di L libera concorrenza, ancora mi ci arrabbio perché era una norma, io capisco di qua c'erano gli interessi delle banche, ma da questa parte? Commercio. Esatto, però anche lì voglio dire... Abbiamo parlato ieri di confcommercio e dei nostri... Anche lì la trattativa, abbiamo portato avanti tantissime cose giuste per la confcommercio, veramente giuste, perché insomma anche i commercianti voglio dire hanno le loro esigenze, ma qui non è stato capito, e questo che... che anche chi li dà in affitto, chi li prende in affitto come i commercianti avrebbero tratto più beneficio, io ho scritto una lettera proprio sul mio caso, lo faccio spesso, quindi c'è più beneficio, stiamo attenti a non voler difendere gli interessi degli amici, perché poi questo è quello che succede, io ero presidente nazionale dei giovani imprenditori, quindi di un'associazione di categoria, succede. Katia, ti faccio l'ultima domanda, poi chiamiamo gli altri... Assolutamente. Ma mi racconti un attimo, io lo so, ma ci racconti un attimo l'accordo che eri riuscito a prendere, no? Per fare quest'ordine del giorno che impegnasse il governo, vi dico un ordine del giorno, non si nega a nessuno, cioè quando il governo vuole... Una famosa frase... Ti faccio un ordine del giorno, però quell'ordine del giorno... Non me la ricordavo più questa cosa, hai fatto bene a dirmi, eh? Perché quell'ordine del giorno sarebbe stato propedeutico poi a lavorare al Senato, e c'era già il testo, quindi Katia cosa è successo? Perché il governo non ha firmato, perché? Lo abbiamo scritto nottetempo. Allora, un ordine del giorno, comunque una volta accettato, viene pubblicato, e quindi il Presidente Righi mi ha chiamato congratulandosi perché io ero riuscita a far accettare quest'ordine del giorno. Io arrivo in aula, ma vi garantisco che non è mai successo nella storia, io sono andata ad informarmi. Arrivo in aula con un ordine del giorno che impegnava, quindi ero riuscita a parlare con i ministri, avevo fatto tutto l'ambaradan, abbiamo limato le parole per scrivere in un certo modo, non si nega a nessuno, e la parola per mettere insieme un'aula in ordine del giorno non si nega mai, perché impegna il governo a vedere se ci fossero le possibilità. Arrivo in aula, dopo che i giornali l'avevano ripreso tutto, perché ormai era nel sito, era fatto che l'ordine del giorno non veniva più presentato, era stato respinto completamente. Io, cioè, ci siamo sentiti e ho detto, no, ma ci deve essere un errore. Chiamo gli uffici della Camera e mi dicono, guardi, è respinto, ma non è possibile, è già stato pubblicato. Voi pensate che forse per una distrazione di qualcuno noi eravamo riusciti ad infilarcelo, ma le due banche, che non erano assolutamente distratte, l'hanno vista, peraltro, se il governo tentava una mediazione, almeno con un ordine del giorno, perché vi garantisco, mi ha detto sì il ministro e il sottosegretario, loro hanno visto questa cosa e lì deve essere stato un ordine molto forte che è arrivato da questo forte potere, ovviamente. Perché anche questi, di notte, come noi, lavorano e stanno attenti anche loro, peccato. Questa è la verità. Se dormissero un po' di più, forse saremmo... Assolutamente. Comunque ringraziate veramente la FIAE per il vostro Presidente, perché il lavoro... Io ancora devo riprendermi. No, no, ma esatto. Cercando di analizzare un po' il problema, io naturalmente non chiamo Matteo qui sul palco e non lo voglio mettere in imbarazzo, perché naturalmente, poi è una cosa che dovremmo... Però questo è un po', avete assistito a un po' del lavoro, no, che si fa come associazione, no? Si parla normalmente, come parliamo qui noi, molte volte non c'è distinzione. Io mi arrabbio quando mi dicono, e lo dicevo proprio con Matteo, dicevo guardate, le associazioni, e tu lo sai perché hai fatto parte di una grande associazione, vivono un po' questo problema, no? Chi è al governo di solito governa e chi è all'opposizione va ai convegni. Quindi tu ti trovi due anni che vieni bollato la FIAE di estrema sinistra, poi sei di estrema destra. Noi invitiamo tutti i nostri, come noi siamo gente che lavora, noi cerchiamo l'aiuto nella buona politica. Allora, anche tutte le polemiche, no, che ogni tanto ci sono prima di ogni convegno, no? Ma hai chiamato questo e hai chiamato quest'altro. Ma benvenga, confrontiamoci. E proprio su questo confronto io chiamerei il giornalista qui, caporaso, a cui ho rubato il lavoro per un po', da abusivo. Ne parlavamo prima. È stato brillantissimo, Presidente. Diciamo che il rischio vero è che vieni a fare le trasmissioni al posto mio. Buonasera, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno.